Il braccio di ferro diplomatico sulle isole contese nel Mar Cinese e Meridionale arriva al 48esimo vertice dei ministri degli esteri dei paesi del sud-est asiatico in corso in Malesia. La questione, sponsorizzata dagli Stati Uniti, non è in agenda per la Cina. Mercoledì è atteso a Kuala Lumpur il segretario di Stato statunitense John Kerry.